Sto parlando degli indistruttibili Stefano Bettarini e Caspar Camparoni C'erano tutti e due i figli oltre a Nicoletta, grazie, questa perché è per Alda, questa è per Alda, no Alda ce l'ha, ah me l'avete, grazie, grazie, eccoli, venite qua, venite qua, poi vi salutate, venite, venite, Venite vicino a me che vi devo far vedere subito delle immagini, poi avrete modo di salutarvi, ok, Betta K